È imminente l'apertura dello svincolo di Castel Raimondo Nord della Pedemontana delle Marche. È quanto emerso nel corso del sopralluogo lungo il cantiere della Quadrilatero dell'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli. Il nuovo tratto ha una lunghezza di 8,4 chilometri da Matelica Sud a Castel Raimondo Nord con due nuove gallerie. La piattaforma stradale ha una larghezza di 10,5 metri con quattro svincoli. Matelica Nord e zona industriale, Matelica Ovest, Matelica Sud e Castel Raimondo Nord. Al sopralluogo hanno partecipato insieme ai tecnici della regione Tianas anche il consigliere regionale Renzo Marinelli ed il sindaco di Castel Raimondo Patrizio Leonelli. Questo è il nostro piano Mattei per unire le Marche. I territori cari a Mattei oggi vengono uniti idealmente da un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio, dell'economia, per alleviare i nostri borghi dove stiamo investendo per il rilancio anche del turismo marchigiano e dei mezzi pesanti. Oggi siamo qui a testimoniare un successo, un lavoro che va avanti in maniera spedita per collegare in questo caso Matelica a Castel Raimondo, ma in un grande concetto di autostrade dei territori interni che uniscano la città del Travertino Ascoli Piceno con la città del Mattoncino Rosso, patrimonio UNESCO Urbino. Quindi un'autostrada, una infrastruttura parallela all'autostrada A14 che conosciamo per alleggerire dal traffico tutti i territori costieri e per far rivivere i nostri territori interni. Voglio cominciare dicendo che era ora, perché non possiamo essere sempre isolati da tutte le grandi vie di comunicazione. Quindi benvenga questa apertura, benvenga poi la continuazione di questa superstrada, di questa arteria. Ripeto, era ora, se è troppo tempo siamo stati un po' ai margini. Gli altri, noi corriamo ma gli altri arrivano sempre prima. Un'infrastruttura importante per il territorio, per l'entroterra, per farci rilanciare, quindi è un'opera veramente importante. Di questo devo ringraziare, sì quadrilatero, ma anche ultimamente il presidente Acquaroli, l'assessore Valdelli, i tecnici della regione Marche perché stanno veramente accelerando questa opera che è sicuramente fondamentale e essenziale per il nostro entroterra. Grazie. 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 Grazie.